Due cose meritano di essere messe in evidenza a proposito dell'uscita recente di Umberto Eco su Internet e gli imbecilli. Fermo restando che Eco ha diritto di pensare quello che pensa e di dire ciò che effettivamente pensa. Non è la prima volta che esprime queste opinioni a proposito di Internet e non è la prima volta che si vanta di non essere dentro i social network, anzi di avere dentro le social network molti profili falsi e quindi si vanta di poter dare dei giudizi sprezzanti su Internet. Non è questo il problema del resto. Anche nel passato Eco ha dato un grosso contributo anche alla non comprensione della rete come dimostra il fatto che non ha mai capito nulla e non ha mai voluto capire nulla di McLuhan, come dimostra anche il fatto che ci ha aiutato certamente a capire cos'è la televisione, il passaggio tra la tradizione della televisione pedagogica a quella che lui stesso ha chiamato neotelevisione, però questo non gli ha consentito, non ha consentito all'intellettualità che si ispirava a Umberto Eco di capire come la neotelevisione fosse specchio di un determinato mondo. Ecco, un mondo per certi aspetti corrispondente a quello che oggi lui rappresenta come il mondo degli imbecilli. Ecco, non è questo il problema, ripeto, Eco non fa problema. Fa problema dal mio punto di vista il fatto che gli è stata conferita una laurea per questo, è una laurea in comunicazione, in cultura dei media. Mi chiedo che università è questa, che non è in grado di capire che cos'è la rete, che anche si vanta di essere fuori della logica della rete, che futuro mai potrà avere questa università. Questo credo che sia qualcosa di assolutamente preoccupante, perché vedete, il problema non è tanto il fatto che ci siano degli imbecilli dentro internet. Non è una novità, ci sono imbecilli da tutte le parti. Il fatto che internet è aperto, che consente a chiunque di prendere la parola, bene, non è un problema. Il problema da livello interpretativo, al livello interpretativo, è il fatto che internet è diverso da un mass media. Internet non è un luogo dentro il quale uno parla e tutti gli altri omogeneamente ascoltano. E quindi allora se uno che ha una laurea, se uno che ha un Nobel, dice delle cose giuste, quindi tutti imparano tante cose importanti ascoltandolo. E se invece è un imbecille, bene, è giusto che non ci sia gente che lo sta ad ascoltare, quindi che ci sia un filtro. Così funzionano i mass media, o meglio, vorrebbero funzionare i mass media. No, ma internet non è un mass media, ma è un medio basato sulla interazione, dove la ricezione, cioè l'utente, ha un ruolo, un ruolo attivo. Può fortemente selezionare, può fortemente influire, diciamo, sul contenuto del messaggio, perché è parte determinante del contenuto del messaggio. C'è appunto interazione. Capito? Interazione. Quindi non passività, ma attività. Naturalmente questo non vuol dire allora che tutto va bene, signora la Marchesa. Vuol semplicemente dire che funziona in modo diverso internet dalla televisione e dalla stampa. Fermo restando che anche nella stampa e anche nella televisione ci sono, diciamo così, delle presenze di imbecilli. Fermo restando anche che i Nobel, ci sono dei Nobel, che hanno mostrato una loro parte imbecille. Ognuno di noi ha una sua parte imbecille. Il bello della rete è che questa parte può essere mediata, può essere discussa, può essere interagita con altri. Cioè si è più in rete, non si è meno. Si partecipa, si condivide, si interagisce, si dialoga. Altro aspetto che merita di essere messo in evidenza è il fatto che qualcuno ha, diciamo, sottolineato e riconosciuto a Umberto Eco il merito di andare controcorrente. E no, e no, e no, assolutamente no. Chi ha provato a seguire un po' questi miei brevi interventi sa che personalmente sostengo che, e vorrei poter essere smentito, che l'ideologia dominante nel nostro paese, in Italia in questo periodo, è un'ideologia che è fortemente svalutativa della rete, fortemente svalutativa del digitale. L'intellettuale medio italiano ha una visione fortemente apocalittica della rete. E questo è un grosso, una grossa palla al piede della nostra cultura. Da questo punto di vista si può dire che Umberto Eco è perfettamente coerente con un'università che non capisce niente della comunicazione e con una cultura che capisce poco e niente di quello che è oggi la comunicazione. Grazie a tutti.